ma affettuosa che sei arietta riconoscente si sentono fino a quale fusa di aria nel video sembrano tutti giganti non sta ferma un attimo questa quanto è felice vai l'arietta vai ci sta bene sul rosso aria una anetta una anita a me mi ricorda anita tipo anita da piccola doveva essere così secondo me si perché secondo me avrà pure lei il calore precoce ancora è piccola che avrà tre mesi ciprietta ciprietta che belli i lacci delle felpe non belli i lacci delle felpe ma star che fa mangia sta giocando con sua cugina doris ma pure l'impennata va pure l'impennata pure l'impennata pure l'impennata grazie a tutti